genuani si resta il podcast settimanale dei genuani che non sono potuti restare a Genova ma che sono comunque rimasti genuani genuani si resta perché questo titolo si dibatte spesso sul genuani si nasce genuani si diventa eccetera eccetera e questo dilemma vale per tutte le tifoserie beh questo podcast vuole essere un punto d'incontro di chi genuano è ma che per svariati motivi vive a migliaia di chilometri della sua squadra e nonostante tutto continua a coltivare la sua passione con la medesima intensità ogni giorno ogni weekend ogni volta che la sua squadra gioca a qualsiasi ora del giorno e allora genuani si nasce si diventa ma soprattutto si resta saremo qui ogni settimana come seduti al tavolo di un bar prima o dopo una partita del nostro grifone a commentare senza la pretesa di rappresentare nessuno ha solo l'ambizione di creare un contenitore per tutti i genuani sparsi per il mondo sarà solo un bar lontano migliaia di chilometri come diceva annunzio filogamo cari amici vicini non siamo allenatori né direttori sportivi né giornalisti e tantomeno ex calciatori al limite ex mediocri pallonari ma siamo tifosi quello sì e spesso nemmeno troppo obiettivi beh non aspettatevi troppo obiettività in questo podcast faremo del nostro meglio ma non garantiamo nulla e benvenuti al quarto episodio di genuani si resta il podcast dei genuani residenti all'estero vado subito a salutare i miei compagni di avventura e da new york matteo cevasco ciao matte ciao gage e dalla calda miami di ritorno dalla piscina e in costume maglietta francesco talarico ciao fra ciao gage allora prima di presentare l'ospite e e tra l'altro stasera come annunciato nel precedente episodio facciamo un trasfertone proprio e la settimana scorsa abbiamo avuto il primo ospite straniero ma siamo andati in canada questa questa settimana andiamo proprio nel vecchio continente a noi tanto caro e per la più precisamente in scozia ma prima di presentare il nostro ospite un paio di informazioni di servizio per i nostri ascoltatori settimana scorsa e abbiamo presentato la pagina facebook di genuani si resta e anche la pagina instagram sulla pagina facebook potrete trovare i link di tutti gli episodi precedenti e potete anche contattarci usando whatsapp e l'indirizzo email ringrazio già alcuni amici sparsi per il mondo che ci hanno contattati e oltre a farci complimenti e questo chiaramente ci fa enormemente piacere si sono anche resi disponibili per partecipare a degli episodi e quindi se volete partecipare contattateci troveremo il modo di organizzare anche se noi siamo negli stati uniti e magari voi siete in europa come abbiamo fatto con l'ospite di stasera inoltre il podcast sempre dalla settimana scorsa è disponibile su le piattaforme spotify e audible quindi insomma è sempre più disponibile e quindi non avete più scuse per non ascoltarlo andiamo quindi a presentare l'ospite 32 anni ovviamente nato a genova e genovese da dieci anni vive in scozia e sposato con una ragazza portoghese che non è tifosa niente figli motivo del trasferimento ve lo accenno io poi ce lo racconterà un po lui comunque si è trasferito dieci anni fa quindi a 22 anni dopo una breve vacanza in scozia sei innamorato di edimburgo dove vive e la quale la definisce una capitale europea molto vivibile a differenza di altre altre città come londra berlino e a genova è nato e ha vissuto vicino a scalinata montaldo la famosa scalinata montaldo tanto contesa dai tifosi delle due squadre genovesi e e poi si è trasferito sulle alture di genova davagna prima di andare a savona dove ha studiato e vissuto i suoi anni da teenager quindi è stato genuano sia a savona sia edimburgo sarà interessante sentire da lui come si vive da genuani a savona giocatore ha giocato fino a 18 anni nelle giovani del celle ligure in campionato provinciale prima partita allo stadio del genuo al 22 giugno 97 un genuo a palermo 4 a 1 era nei distinti con suo papà dice di essersi accorto che avevano iniziato a giocare dopo 30 minuti ma rimase comunque folgorato dalla norma si definisce un genuano entusiasta giocatore preferito di tutti i tempi tiago tiago motta giocatore preferito in assoluto eh Gianfranco Zola altre squadre per cui tifa e nessuna solo il genua che lo stressa già abbastanza obbio passioni suona la chitarra appassionato di vino tanto da farne una professione e ama viaggiare sempre in posti nuovi quindi dalla terra di anche se sei appassionato di vino dalla terra di grandi whisky il nostro genuano col kilt eh Tobia Salvai ciao Tobia eccoci ciao a tutti ciao 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 allora ehm velocissimamente ehm raccontaci un po' eh del tuo trasferimento insomma 22 anni e insomma sei partito bello giovane per andare a fare un'avventura del genere ma sì vabbè diciamo che quando si è giovani si ha più possibilità di fare delle pazzie ecco eh ero venuto qua perché mia sorella si era trasferita qua eh qualche anno prima di me e allora un po' per per vacanza un po' per trovare mia sorella eh veni una settimana insomma vicino all'estate a visitare la città posto fantastico veramente eh la consiglio proprio a tutti come piccola vacanza anche di due o tre giorni un weekend per chi è in Europa ovviamente e e poi proprio poco dopo tornai a casa e insomma decisi di di provare a a vivere qua sei mesi quattro mesi non sei quattro mesi in ostello eh a fare baldoria ogni giorno cercando lavoro e insomma cercando di di ambientarsi e dieci anni dopo sono qui sposato con una casa con un lavoro tutto sommato stabile insomma felice di 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 vivere in questo bel paese ecco chiedo scusa c'era il microfono spento eh dicevo molto bene ehm edimburgo ehm una città io mi sono un po' documentato perché avendo un ospite del genere insomma era era importante e ho scoperto che calcisticamente è una città che offre due squadre non non famosissime ma c'è un derby molto molto sentito che non vale certo il derby di Glasgow fra i Rangers e i Celtic eh che è quello fra gli Arts of Midlothian e gli Ibernian e leggendo un po' la storia e ho trovato tantissime eh affinità con con non solo con l'essere genuano ma anche proprio con la nostra eh rivalità cittadina innanzitutto c'è una frase famosa di eh di Mark Renton il personaggio di eh Trainspotting che eh dice eh non so mica se mi piace ti fare una squadra che vince e già questo eh ci dice ci dice qualcosa del di questa rivalità una rivalità eh anche geografica perché eh una squadra se non se non sbaglio eh gli Arts of Midlothian si considerano la vera squadra di Edimburgo gli altri vengono da un ehm da un quartiere portuale e e insomma vengono un po' considerati gli ospiti anche lì due squadre che non hanno mai vinto tantissimo si sono ritrovate in una finale di Coppa di Scozia qualche anno fa ma è molto interessante eh il fatto che nel 1990 il proprietario di una delle due squadre non mi ricordo quale eh considerata la crisi delle due squadre aveva pensato a una fusione e e aveva fatto quindi scoppiare una mezza guerra civile ad Edimburgo. Ho trovato un po' di similitudini in questa in questa in questa storia. Cosa ci racconti della ecco tu sei forse il primo ospite eh che vive in una realtà calcistica perché noi abbiamo un ospite eh dal Canada e diversi ospiti dagli Stati Uniti sono eh sport in crescita però chiaro che non parliamo di 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 paesi dove invece il calcio la Scozia non è certamente al top però fa parte chiaramente che vi piaccia o no del Regno Unito e e dove chiaramente tutto tutto è nato e raccontaci un po' com'è essere tifoso oltre che essere genuano in eh si sente tanto il calcio come lo vivono e c'è anche il rugby insomma c'è altri sport. Sì ecco su Edimburgo prevalentemente diciamo che il rugby è lo sport principale e che sia per le squadre locali io il rugby purtroppo lo seguo molto poco ma che sia soprattutto poi per le nazionali giusto ieri hanno giocato Inghilterra anzi Scozia e Inghilterra per il sei nazioni qua in Edimburgo e sulla città di Edimburgo appunto il rugby è proprio molto molto sentito. Il calcio è più su Glasgow ovviamente ciò nonostante eh tutto il discorso che ho fatto fino adesso esula proprio dalle due squadre di calcio che sono gli Arts e gli Ips ovvero gli Ibernian e gli Arts of Miloia. Ehm diciamo che è una rivalità eh un po' particolare nel senso che nonostante come appunto giustamente hai detto te eh la rivalità è forte e sentita è noto in tantissime iniziative di marketing per quello che riguarda magari aziende private no che collaborano con le società eh iniziative congiunte eh faccio un esempio una catena di pizzerie locale eh lo sponsor ufficiale di entrambe le squadre cioè da noi non sarebbe mai possibile una cosa del genere ecco e sulla rivalità eh ma aggiungo giusto una piccola cosa rispetto a quello che hai detto te prima che eh nonostante gli Ibernian siano sì la squadra tra virgolette ospite sono quelli che hanno un po' più di seguito perché hanno appeal su una classe un po' più popolare e quindi più legata al calcio che invece al rugby che visto un po' come uno sport da non da snob ma ma quasi ecco e io mi ricordo non mi ricordo quanti anni fa erano cinque sei anni fa quando appunto l'Ibernian avevano vinto la coppa di Scozia quindi la coppa Italia diciamo no e lo street party la festa per strada nei giardini appunto di leafwalk è stata una cosa incredibile e i venticinque mila di Marassi quando quando salimmo in A insomma ecco più o meno quella roba lì ecco quindi davvero bello io poi ho abitato parecchio tempo nel quartiere di Leaf quindi proprio a cinque minuti a piedi dallo stadio del dell'Ibernian ed è anche bellissimo nonostante lo stadio sia faticente vedere come comunque la vita attorno allo stadio sia veramente attiva 365 giorni l'anno a prescindere dalle partite ecco quindi tu sei un IBS sì per un motivo a parte vabbè il fatto che ero vicino geograficamente ma anche perché gli IBS rappresentano la squadra degli immigrati irlandesi no un po' come il Celtic a Glasgow e quindi essendo la squadra degli immigrati essendo io immigrato è stato subito abbastanza facile diciamo avvicinarsi ecco e poi ultima curiosità mi sembra due campionati fa l'ex Genoa Stefan Omeonga ha fatto una stagione con l'Ibernia che io ricordo a stint era quel centrocampista colore si 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 ragazzi avete qualche bella domanda per il nostro ospite assolutamente sì ah una cosa vai 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 ma te Tobia non so se hai seguito io sono la mia nazionale del cuore è la Scozia io patisco l'altra cosa che mi fa patire a livello calcistica assieme al Genoa è la Scozia io sono innamorato della nazionale calcistica scozzese dal 1990 quando venero vabbè tu non eri ancora nato probabilmente un anno sì eri piccolino ecco venero a Genoa giocare due partite fu fantastico io da quel momento li seguo e patisco è l'unica è l'unica squadra di calcio che mi fa patire come mi fa patire il Genoa è una domanda com'è l'attesa in Scozia per gli spareggi mondiali ora giocheranno a marzo come l'Italia contro l'Ucraina speriamo che riescano a vincere anche perché a me gli ucraini da un po' di tempo mi stanno sulle scatole potrai capire il motivo certo e poi speriamo che riescano ad andare in Galles o in Austria e a riportare la Scozia ai mondiali dopo è dal 1998 che la Scozia ma diciamo che secondo me è il momento nel senso che comunque hanno una squadra che per quanto possa essere modesta negli schemi calcistici mondiali è forse la miglior nazionale che hanno da vent'anni a questa parte se non di più e l'attesa c'è ovviamente adesso appunto essendo il momento del rugby sono tutti concentrati sul rugby e il calcio soprattutto a livello nazionale a differenza magari di quello che può essere in Italia è un momento di unione per loro è un momento di identificazione nazional popolare tra virgolette quindi sì c'è un'attesa incredibile e io penso ci siano anche buone chance poi di riuscire a insomma ad andare i mondiali ecco speriamo sarebbe sarebbe un bel colpo anche per il movimento calcistico internazionale comunque che se ne dica la Scozia è una nazionale molto importante per il calcio nonostante non abbia mai vinto niente il primo giocatore professionista era uno scozzese la prima partita tra nazionali nella storia del calcio è stata Inghilterra contro contro Scozia nel 1870 qualcosa esatto la Scozia la storia del calcio poi che sia una nazionale sempre disgraziata che si è qualificata molti anni di seguito per il mondiale non mai riuscendo a superare il primo turno nonostante negli anni fine anni 70 inizio anni 80 avesse dei signori giocatori come Kenny Dolglish non dico quello con la S perché sennò i sandoriani godono però lì non lo dico però Charlie Champagne Charlie Champagne esatto avevano io ricordo anche lo squalo Joe Jordan avevano dei signori giocatori Archibald avevano tutta una serie di grandi giocatori che giocavano nei top club della liga inglese non si chiamava ancora Premier League ma speriamo ecco sarebbe bellissimo che si qualificassero e che riuscissero anche a superare questo benedetto primo turno beccando anche un gruppo buono sarei molto contento a me sinceramente quello che succederà a Lisbona e a Roma contro la Macedonia del Nord mi importa relativamente quello che succederà a Glasgow o a Cardiff in Vienna li patirò ecco mi fa piacere a livello di movimento calcistico se lo meritano un po' come piazza diciamo di tifosi sono un po' un po' genuani gli scozzesi nel senso che l'attaccamento soprattutto per la nazionale è molto molto forte vanno sempre in migliaia in trasferta è meraviglioso vedere quando tu guardi quelle parti della Scozia in trasferta è sempre la gradinata con le con le bandiere con la croce di Sant'Andrea tipo sono andati anche adesso tempo di covid mi pare che fossero quasi cinquemila a Kissinau dove hanno giocato nella capitale della sono una grande piazza e tra l'altro il movimento calcistico scozzese ovviamente non paragonabile a quello inglese è comunque in lieve e lenta crescita le società nonostante ci siano pochissimi soldi si stanno strutturando hanno capito come come gestire anche a livello di comunicazione marketing e di tale scout per quello che riguarda poi i calciatori in un modo economico ed efficiente il problema che hanno e che avranno sempre è che ovviamente nel momento in cui un giocatore diventa troppo bravo per la premier scozzese arriva qualunque club inglese anche il peggiore e l'offerta economica non potrà mai essere insomma adeguata a quello che che la Scozia offre ecco molto più altro scusate la stasera sono molto eccitato di avere lo scozzese che mi sento veramente ti faccio un'ultima domanda qualche tempo fa si parlava della possibilità che il Celtic e Rangers che sono le due grandi squadre scozzesi per antonomasia anche squadre conosciute in Europa che potessero entrare nella premier league è un'ipotesi di cui stanno ancora parlando o che io sappia no che io sappia no non avrebbe non avrebbe senso per il movimento calcistico scozzese e loro queste due squadre sono due squadre che a cuore soprattutto i Rangers in questo caso hanno comunque la volontà di dominare in Scozia ecco a livello sportivo ovviamente è uguale il Celtic nonostante negli ultimi anni abbia un dito insomma varie scelte sbagliate da parte del board e non credo non credo sia una cosa che possa succedere anche perché sarebbe la morte del movimento della lega scozzese perché poi rimarrebbero Aberdeen Ibernian Hearts of Milotian tutte squadre che comunque non rappresentano nel mondo quello che il Celtic e i Rangers rappresentano insomma il Celtic dove se non sbaglio giocava non so se gioca ancora un jam mi sembra sia andato via quest'anno adesso sì credo anch'io non ricordo però sì fece fece mi sembra due o tre stagioni il fisico è adatto al campionato scozzese ecco francesco ciao Tobia ciao spero che sono dieci anni praticamente che sei lì esattamente in Scozia più o meno più o meno sì a livello di adattamento mia domanda più a livello anche di adattamento come l'italiano genovese che è andato che è andato all'estero comunità italiana hai trovata quante grande e liguri nei trovati e genovani soprattutto e la comunità italiana il Regno Unito e in Scozia quindi è enorme e soprattutto comunque dal sud Italia quindi tutto ciò che è Napoli ed intorni piuttosto che magari anche le isole e però sì è una comunità enorme mi sembra che addirittura su Edimburgo o in Scozia dopo la comunità polacca è la comunità più più ampia per quello che riguarda gli expat ecco è stato molto facile ambientarsi un po' perché a differenza magari del dello stereotipo inglese lo scozzese è molto più socievole quindi io mi ricordo i primi tempi nonostante non si capisse una parola perché comunque era un accento molto molto stretto e comunque la loro voglia di conoscerti di socializzare di insomma di darti il benvenuto ecco ha reso un po' l'ambientamento facile ecco e poi vabbè io dovendo iniziare da zero mi sono subito buttato a lavorare nei ristoranti italiani e quindi potete capire che in un attimo insomma è stato facile ambientarsi è bella Edimburgo non conosco tantissimo Glasgow nonostante comunque possa dire le stesse cose anche di Glasgow è bella proprio per il fatto che sono entrambe due città molto internazionali Edimburgo più per l'università ovviamente quindi ci sono un sacco di giovani da tutto il mondo di diversi ceti sociali di diverse insomma esperienze e quindi veramente fare amicizia è facile poi magari è più difficile mantenere delle amicizie per questioni di stili di vita per questioni del fatto che è una città dove magari vivi uno due anni poi vai via e insomma molti hanno fatto questo però insomma io sono qui e non andrei da nessun'altra parte si sta molto bene ecco come ho detto insomma come avevo scritto nelle note è una città a misura d'uomo che ha tutti i comfort di una grande capitale e quindi un aeroporto internazionale gli eventi di livello internazionale e però tu cammini per strada e conosci tutti insomma il bello è quello Che interessante perché la logica è molto simile a quella della Francia dove praticamente appunto al sud sono un po' meno socievoli ho vissuto nella parte sud costa azzurra e diciamo che è quasi croce su tutti gli italiani se è possibile nonostante fossimo a venti minuti da casa mia da Genova però infatti in Francia del nord tanti amici che mi hanno raccontato che hanno vissuto sulla nord hanno avuto tutto sommato una tipologia di vita molto più semplice per quanto riguarda socializzare il conoscere Sì diciamo che è un po' più è un po' più rurale la Scozia ecco non soltanto a livello geografico ma proprio anche a livello di relazioni umane quindi c'è questa apertura a conoscere persone nuove per arricchire la cultura locale loro storicamente dai tempi di Maria Stuarda sono abituati ad accogliere gli stranieri hanno ricevuto un'influenza fortissima dalla Francia in quei tempi e quindi comunque anche un po' per andare contro agli inglesi si sono internazionalizzati tantissimo e con l'indipendenza come siete messi? ma è l'encazin come si dice dalle nostre parti e vabbè ovviamente il sentimento indipendentista è fortissimo l'SNP che è appunto Scottish National Party è a capo del governo e nei poll danno sempre questa voglia di indipendenza al 55% ecco ed è vabbè io non lo capisco perché non sono di qua quindi non do un'opinione su questo però posso intuire le ragioni ecco e di fatto quando si è votato però poi l'indipendenza non ha vinto di pochissimo ma non ha vinto credo che negli ultimi anni un po' perché vabbè il governo centrale britannico dopo la Brexit ma anche proprio nella gestione anche di questioni semplici di politica interna vedi Boris Johnson che fa i festini durante il lockdown ecco ovviamente il sentimento e la voglia di diventare indipendenti è più forte negli scozzesi allo stesso tempo però noto nel quotidiano che tantissime persone sono anche contro il governo scozzese per la gestione della pandemia per come è stata gestita la pandemia hanno avuto un approccio molto molto più cauto rispetto all'Inghilterra e tante persone forse stanche un po' della situazione non li supportano più come li supportavano un tempo ecco è possibile che succeda sicuramente prima o poi un altro referendum lo faranno e lo vinceranno proveranno a farlo e proveranno a vincere finché non saranno indipendenti non è una questione che si può chiudere dall'oggi al domani ecco bene ricordiamo che Tobia fa parte del Genoa Club UK del quale in questo episodio non parleremo più di tanto perché avremo il piacere fra due settimane di ospitare il presidente del Genoa Club UK quindi direi giustamente di lasciare a lui l'onore e l'onere di raccontarci un po' di come funziona il Genoa Club UK però torniamo un po' al nostro Genoa innanzitutto di Tobia bisogna anche dire una cosa Tobia è il più veloce commentatore dei social in assoluto non esiste una pagina che parli di Genoa che sia a livello nazionale che sia a livello locale genovese televisione, giornali, sky dove c'è una notizia di Genoa c'è un commento di Tobia e non solo di Genoa anche di quegli altri una volta si diceva la penna più veloce in questo caso forse il dito più veloce del web che non è una buona cosa perché le nate se ne sparano tantissime è il mio modo di sentirmi a casa tornando a una domanda fatta prima ci sono altri due ragazzi genuani e genovesi che ho conosciuto qua sicuramente ce ne sono anche altri che ancora non ho avuto modo di conoscere però a differenza magari dei ragazzi che sono giù a Londra che si riuniscono per vedere le partite io il Genoa lo vivo da solo che da un lato è anche un bene quasi apprezzo a volte anzi spesso guardarmi le partite in solitaria però poi il modo per ricevere un feedback per comunque sentirmi parte dei tifosi del Genoa è quello poi dei social quindi è in caldo anche una possibile secessione all'interno del Genoa Club UK per un Genoa Club Scozia no no anzi 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 diciamo che la delegazione Scozia è proprio parte integrante del Genoa Club UK e non c'è nessuna volontà di indipendentismo ecco in quel senso a differenza magari di altre situazioni e con i ragazzi del club siamo in contatto ovviamente costantemente su Whatsapp molti siamo anche diventati amici e io da remoto do una mano per quello che riguarda magari alcune cose loro ovviamente essendo in presenza riescono a organizzare iniziative che siano vedere la partita che siano il picnic al parco e insomma è tutta una serie di attività che poi sono le attività fondanti di un club ecco ci vogliamo tutti un sacco bene e ci aiutiamo a vicenda ecco ovviamente la pandemia come potete immaginare ha reso un po' le cose più complicate però poi Luca ne parlerà meglio siamo davvero contenti perché abbiamo tantissimi membri nativi anche qualche scozzese tra l'altro che seguono il Genoa seguono le loro squadre il Watford, l'Arsenal, il Chelsea quello che è e seguono il Genoa ma lo seguono cioè non è che fanno finta lo seguono davvero ecco e questo è un orgoglio via assolutamente sì e noi tra l'altro avremo anche occasione sempre nelle prossime settimane di ospitare un ragazzo che vive in Irlanda quindi ci manca solo il Galles e poi abbiamo quasi completato tutta l'isola e Matte hai qualche domanda? No, un paio di domande allora una diciamo più di senso culturale generale sul clima com'è il clima in Scozia come ti sei ambientato perché il sole che c'è a Genova non c'è di certo e un'altra domanda è hai fatto un commento dicendo forse è meglio che guardi le pareti da solo come mai? Ti metti a cioccare? No, vabbè allora mi piace tantissimo il gioco del calcio che è una cosa che il Genoa non pratica da molto tempo ha iniziato adesso a praticarlo e quindi mi piace magari concentrarmi su quello che è proprio l'attenzione alla partita guardare il movimento del giocatore cosa che magari in compagnia non fai perché ti godi anche la compagnia dei tuoi amici come giusto che sia cioccare no cioccare no però mi piace proprio sentire la partita e immedesimarmi diciamo in quello che è la fase di gioco lo schema la sostituzione quindi guardare la partita da solo mi dà la possibilità di concentrarmi per quello che riguarda il clima se non ricordo male la domanda era quella è stato un trauma è un trauma tremendo soprattutto l'inverno perché il freddo no perché per esempio sulle alture su Davagna Bargagli piuttosto che comunque anche le alture savonesi fa molto più freddo che qua e nel senso che qui nonostante piova ci sia brutto tempo ci sia un vento pazzesco non va mai sotto lo zero quasi mai ci andava tanti anni fa ora con cambiamenti climatici non scende più sotto lo zero quello che manca è la luce noi d'inverno abbiamo fa mattina intorno alle nove e mezza dieci del mattino poi fa pioggia e quindi cielo cielo grigio e pochissima luce durante tutta la giornata e alle due del pomeriggio è notte ma notte fonda proprio in estate è l'opposto in estate hai giornate infinite addirittura mi sembra che a metà luglio ci siano due o tre giorni dove non tramonta il sole c'è luce 24 ore su 24 e le temperature sono molto molto più gradevoli e ci si abitua non è uguale ci si abitua la cosa positiva è che avendo l'aeroporto ha letteralmente 20 minuti da casa ogni qualvolta ti viene voglia di salirse un aereo per prendere un po' di sole lo fai se hai la possibilità lo fai beh c'è da dire che io seguendoti scusa Nat anche un po' così su facebook ho visto anche qualche giro che hai fatto lì dalle tue parti devo dire ci sono dei paesaggi davvero meravigliosi quasi fiabeschi con questi castelli è bellissima se ti stanno sulle balle le persone è il posto migliore del mondo in quanto genovese ce l'ho un po' nel sangue sicuramente e poi credo di avercelo ancora di più tu quindi sei stato genovese genuano a Savona e poi vabbè genuano anche all'estero quindi hai questa doppia esperienza di genuano diciamo da distante Savona non è così distante però Savona non la conosco molto come città so che c'era una forte presenza interista non so a livello delle due squadre genovesi ma io a Savona ricordo tantissimi genuani c'è comunque un club anche a Savona mi sembrava anche abbastanza attivo ma essendo poi comunque molto vicino a Varazze poi da Varazze in poi è tutto rosso blu ecco no non l'ho vissuta male a Savona ecco diciamo che che nonostante qualche amico qualche conoscente Doriano o per lo più magari Juventino interista o milanista Savona è un piccolo feudo rosso blu ecco nonostante magari qualcun altro possa dire un'altra cosa è così ci sono tantissimi genuani magari meno giovani ma ce n'è tanti tanti e ricordo ai tempi magari che era un po' più complicato andare a vedere la partita allo stadio perché comunque avevi l'ora di macchina l'autostrada la benzina il cercare parcheggio però insomma in modo si trovava col pullman del club Genoa Club al Bormida mi ricordo si era fatta anche qualche trasferta anni fa se andò a Empoli se andò a Monza a fare lo lo spareggio o comunque poi appunto macchinate di amici e il Genoa si viveva non dico come a Genova ma quasi ecco qui no qui no qui è molto diverso ecco lì come vedi la partita cioè chi è che la trasmette lì? c'è BT Sports che ah BT Sports questa piattaforma sì non le ha tutte non le ha tutte penso che addirittura magari trasmetta quelle di cartello di Dazon e quelle Sky non le dia insomma però tramite quella riesce a vederla bene e e poi vabbè commenti come sono? sempre parziali come in Italia? devo dire la verità non ho quest'anno è difficile perché quando dicono la verità fa male no? però è la verità eh sì no? e quindi è quindi difficile per quello sono obiettivi nel senso che come tutti i commentatori british se se fai bene ti dicono che hai fatto bene se fai male ti dicono che hai fatto male ecco e c'è un po' questa magna di sensazionalismo per il giocatore della big o per la grande squadra adesso Vlaovic guardavo prima Vlaovic alla Juve allora commentavano questo grande Vlaovic come se fosse il nuovo Ronaldo però fa parte dello showbiz come si dice fa parte della loro arte di vendere un prodotto ecco tu sei andato a vedere qualche partita lì a l'Edimburgo? eh qualche anno fa ho visto i Bernian Aberdeen con la sciarpa del Genoa ovviamente no purtroppo no con la sciarpa dell'Ibernian perché ero ero con scozzesi ed era un casino e ragazzi mai più nel senso bella l'atmosfera lo stadio è fantastico veramente cantano 90 minuti come noi se non più di noi anche il calcio è un'altra cosa il calcio è proprio un'altra cosa forse il Genoa qua potrebbe ecco forse il Genoa di oggi qua qualche campionato lo vincerebbe ecco mettiamola così sono proprio messi male male però è bello perché apprezzi altro cioè appunto è quello che piace a noi Genoani apprezzi il taco apprezzi il fallo tattico apprezzi la spallata che manda magari il giocatore avversario contro le barriere pubblicitarie insomma è più più un calcio ok ecco che un calcio calcio ecco quindi domande ragazzi una domanda per la mia mania Matte nazionale scozzese sei mai riuscito ad andarla a vedere o no purtroppo no purtroppo no purtroppo no perché con il lavoro che faccio io ovviamente gestendo un negozio di vini che ha aperto sette giorni su sette se c'è un evento sportivo io devo essere dalla parte del bancone a fare in modo che ci sia dell'alcol da bere ecco quindi è difficile proverò ad andare in futuro è una cosa che vorrei fare è sempre difficile organizzare perché magari hai un amico che quel giorno li lavora e l'altro invece no e quindi trovare il modo di andare in gruppo è sempre difficile prima o poi lo faccio sicuramente già appunto nella partita degli EBSO l'atmosfera è qualcosa di incredibile è qualcosa è una dei miei bucket list nella mia bucket list più che andare in Scozia che potrebbe essere anche semplice ma per me ascoltare l'inno Flowers of Scotland a Dumpton Park sì 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 non so prima di un Scozia-Inghilterra o qualunque partita con lo stadio pieno non so mi vengono i brividi mi vengono i brividi ogni volta che lo sento è bello guarda partita di rugby di qualche anno fa appunto qua in Inburgo che giocano a Murrayfield inno scozzese io ero libero non ero andato allo stadio ma passavo vicino allo stadio praticamente nei momenti dell'inno cioè il boato da fuori allo stadio è qualcosa che il famoso sai urlo The Champions di Napoli no è niente a confronto proprio cantano cantano come come andrebbe fatto ecco come sì è una precisazione come dicevamo prima tu giustamente hai detto il rugby che è più il rugby viene giocato alla capitale della Scozia Edimburgo e giocano a Murrayfield che ha lo stadio nazionale esatto il calcio gioca a Dampin Park che è a Glasgow qui si capisce l'anima nel senso l'anima del rugby di Edimburgo con l'anima calcistica di Glasgow che è una delle capitali direi europee del calcio anche se esatto adesso Celtiche Glasgow Rangers non sono più quelle squadre che erano esatto nonostante ciò però fa specie perché poi se tu guardi la storia invece delle firm quindi non delle tifoserie ma dei gruppi ultra diciamo della Scozia soprattutto la firm degli Bernian era negli anni 80 tra le peggiori che tu potresti incontrare sulla tua strada insieme ovviamente a Rangers Celtic che erano qualcosa di oltre il calcio forse cioè teppismo e delinquenza pura e qua Edimburgo era difficile venire a giocare con gli Bernian proprio perché la insomma la tifoseria non non faceva sconti a nessuno ecco sì no i sconti si picchiavano anche per motivi religiosi a parte diciamo il teppismo vicino alla criminalità organizzata ma c'era proprio la sì 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 c'è una strada c'è una strada che porta allo stadio Eastern Road che è lo stadio degli Bernian che veniva proprio utilizzata per fare agguati a qualunque tipo di tifoseria avversaria negli anni 80 quindi al tempo degli Aberdeen Casuals i famosi Casuals che erano praticamente questi hooligan vestiti bene quindi con Sergio Tacchini con Ralph Lauren e tutto quanto sono nati a Aberdeen e poi da Aberdeen il movimento è cresciuto soprattutto in Inghilterra e da lì poi Millwall West Ham tutte queste grandi tifoserie del passato insomma che però hanno appunto origine in Scozia come movimento diciamo di chiamiamolo teppismo via non trovo altre parole e sì però scusami vai pure tu no no mi veniva in mente che una delle due squadre di Edimburgo Gart of Midloth avevano giocato con una squadra italiana in Coppa forse il Bologna mi ricordo tanti tanti anni fa che era stata avversaria di una squadra italiana ma non mi ricordo quando mi ricordo che mi era rimasto questo in testa il nome della squadra non ricordo però c'è una cosa interessante su di loro veramente molto bella qualche anno fa mi sembra 5-6 anni fa hanno avuto grossi problemi finanziari e hanno rischiato di fallire insomma anzi sono quasi falliti sono stati salvati dai tifosi che hanno fatto colletta e hanno diciamo salvato temporaneamente hanno rilevato temporaneamente le quote del club in attesa poi di un nuovo proprietario di una nuova insomma catena di investimento quando poi i nuovi proprietari insomma hanno preso pieno controllo del club e sono riusciti a salvarlo diciamo in maniera proprio più burocratica per celebrare il gesto dei tifosi hanno fatto le maglie della stagione con i nomi incisi di tutti coloro che avevano rilasciato una donazione al club sulla maglietta da gioco dovrebbe esserci ancora anche in commercio praticamente tu hai la maglietta granata bianco diciamo che è il loro colore con delle righette di blu e in rilievo ci sono tutti i nomi scritti minuscolo di tutti i tifosi che hanno messo dai 100 ai 10 ai 1000 insomma pound per per dare una mano al club questa è una cosa fantastica secondo me è una cosa che va oltre proprio bellissima la cultura che abbiamo noi in Italia di quello che può essere il calcio ma a te avevi una domanda? no sono a posto grazie ah no no ho visto Francesco? no è bellissima questa azione che è stata fatta per salvare il club è qualcosa che per esempio a Genova anni fa sì 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 prima che arrivasse preziosi si si accennava si parlava ma poi è una cosa che sulla sulla teoria è facile discutere ma sulla pratica insomma anche perché gli scozzesi di per sé se non sbaglio proprio come i genovesi sono coerici nelle tasche quindi sono abbastanza sono magari proprio propensi a spendere però per quanto riguarda la passione calcistica è un una grandissima cosa sì come dico sempre riguardo i genovesi ai miei amici italiani qua non di Genova non siamo tirchi facciamo investimenti oculati è uguale come gli scozzesi insomma il mantra è quello sì appunto è una cultura calcistica ma sportiva generalmente molto diversa dalla nostra hanno più agevolazioni burocratiche non c'è magari questo tipo di pressione che ci può essere da noi per un certo tipo di cose mi viene a mente anche non so l'azione a reato popolare del Benfica piuttosto che del Barcellona ecco no da noi in Italia per questioni burocratiche penso sia quasi impossibile ricordo anni fa quando la fondazione aveva fatto una sorta di di pacchetto tifosi era una cosa un'iniziativa molto bella chissà che magari in futuro non so ci possa essere la possibilità non che i 777 abbiano bisogno dei nostri soldi non penso però sarebbe bello ecco poter avere lo 0,0001% del Genova ecco bene adesso parafrasando Nanni Moretti dici qualcosa di Genuano però parliamo un po' di Genua dici qualcosa di Tobia Genuano in Scozia raccontaci qualche aneddoto come ne parlavamo le settimane scorse proprio questa nostra missione di portare questi colori in giro per il mondo cosa cosa fai tu dal missionario del Genua a Edimburgo rompo le palle a chiunque conosco quello che riguarda il Genua anche in negozio sì anzi vabbè aneddoti recenti diciamo di partite viste in negozio perché a me capita spesso il mio lavoro un po' particolare nel senso che ho molto tempo libero nonostante comunque debba essere in presenza devo essere presente quando serve ma poi ho molto tempo libero e questo mi consente di seguire il Genua in maniera un po' più magari accanita guardando le partite in negozio è capitato faccio un esempio l'anno scorso Coppa Italia quando vincemo il derby col gol di Scamacca di insomma di essere in negozio da solo ho dovuto chiudere cinque minuti la porta del negozio mettendo il cartello torno tra cinque minuti perché proprio dovevo spogliarmi urlare fare insomma fare bolgia da solo in negozio e ho urlato così tanto e così forte che il macellaio a fianco al mio negozio è venuto a bussare per vedere se magari c'era qualcuno che stesse rubando e fosse in pericolo ecco stavi già stappando champagne ero impazzito quello è un episodio diciamo dell'anno scorso anni fa con un mio carissimo amico spagnolo tifoso del deportivo del portivo La Corugna quel famoso Genoa Juventus Antonini al 90 a quattresimo mi sembra la guardiamo a casa mia insieme lui era la primissima partita del Genoa insomma non aveva mai sentito neanche parlare di noi e mi ricordo proprio che per 90 minuti io ero guarda partitaccia la classica partita da 0 a 0 era proprio una brutta partita no e io ero non riusciamo quest'anno non svoltiamo non riusciamo a fare quel piccolo salto di qualità per andare in Europa ai tempi ancora si sognava e poi quel gol fu una cosa pazzesca anche lì gioia infinita lui non tifoso del Genoa vede Antonini segnare impazzì vi venne proprio una malattia anche per lui e anche lui segue adesso il Depor e ogni tanto anche il Genoa in maniera magari un po' più distratta però insomma ha comunque una sciarpa del Genoa una maglia del Genoa e tutto ciò che ne consegue e poi per il resto sono sempre più magari sofferenze vissute in maniera telematica piuttosto che al telefono con degli amici c'è un mio amico di Genova con cui ci sentiamo tantissimo che insomma sono ore e ore al telefono a parlare non so del perché faccio un esempio stupido domenica Goodmanson magari non è entrato dieci minuti o perché Ostigard ha fatto bene a fare quel falo da ultimo uomo insomma tutte considerazioni legate al momento ecco tu rientri spesso a Genova? ma no però a breve rientrerò nel senso che vabbè gli ultimi anni sono stati un po' complicati per il covid ovviamente e quindi un annetto e mezzo che non scendo giù scenderò ora qualche giorno a marzo purtroppo il Genoa giocherà fuori casa a Bergamo con l'Atalanta e quindi adesso dovrò cercare di capire come fare per andare a Bergamo a vedere la partita perché non ci sono alternative ecco però appunto anche se non dovessi riuscire ad andare poi a Bergamo in qualche modo in qualche bar o in qualche pub si troverà il modo ecco e per quello che invece riguarda andare in giro con i colori con quello che è un po' il proselitismo diciamo il professare fede altrove ogni qualvolta gioco a calcio con degli amici ogni qualvolta vado a farmi una corsa meno ultimamente ma dovrei ogni qualvolta insomma faccio dell'attività che richiede dell'abbigliamento sportivo la maglia del Genoa è sempre addosso ecco e vedo che qualcuno guarda con curiosità e non capisce bene di che cosa si tratta ecco perfetto parliamo di Genoa dai ragazzi cosa possiamo una domanda sulla sua biografia genuana diciamo certo tu hai scritto Tiago Motta il tuo giocatore preferito spiegaci un po' perché il tuo giocatore preferito all time Gianfranco Zola anche lì dammi una spiegazione e poi una nota così tu hai debuttato in un Genoa Palermo 4 a 1 nel 97 che non so se tu te lo ricorderai ma era la partita dopo la Fatal Ravenna esatto esatto dove tu hai detto che sei stato che la Nord ti aveva ammaiato ma alla fine di quella partita lì la Nord aveva fatto scoppiare un mezzo un mezzo casino perché c'era stata una contestazione con lacrimogeni cioè raccontaci un po' hai riscappato tuo papà ti aveva portato a casa di corsa sì eravamo eravamo ovviamente andati via subito io avevo sei anni sette anni ai tempi quindi ed era la primissima volta allo stadio e mio papà mi aveva portato proprio perché dopo appunto i fattacci di Ravenna era un po' una cosa d'orgoglio come dire ci siamo a prescindere ci siamo a prescindere e ci siamo io tifoso con un figlio e porto anche mio figlio di sei anni a vedere la partita ecco poi dopo io non ricordo ero veramente piccolo ricordo proprio cioè non saprei neanche dirti che colore aveva la maglia del Palermo fosse quella parte se avevamo la maglia rosa o la maglia grigia capito proprio non mi ricordo niente l'unica cosa che mi ricordo è che per 35-40 minuti io non avevo capito che stessero giocando in campo perché ero fisso sulla nord a guardare ste bandiere insomma sentire casino senza capire niente senza rendermi conto magari di perché ci fosse casino però fu già una cosa magnetica da lì ero insomma fisso sul geno ecco con qualche dubbio poi in età un po' più avanzata tipo 8-9 anni perché tutti gli amichetti alle elementari la Juve il Milan eh mio papà in 5 minuti mi fece capire che non era storia e che dovevo tifare genere insomma e vedi un po' direi e lo ringrazio per questo lo ringrazio per questo e mi ricordi scusami la prima domanda che avevi fatto Sì niente Tiago Motta Ah Tiago Motta Motta e Zola Motta vabbè io giocavo centrocampista e quindi in quegli anni era il centrocampista in Serie A forse insomma quei 2-3 anni che fece da noi poi quell'anno e poi quando andò all'Inter ecco e mi ritrovo nella nell'attitudine a giocare una partita nel senso che lui nonostante magari avesse dei mezzi fisici limitati un po' dall'infortunio che aveva subito quindi soprattutto l'anno che ha giocato da noi non è che corresse come un dannato però era sempre dove passava il pallone era sempre nel posto giusto sapeva cosa fare come farlo e quando farlo e laddove non arrivava a prendere la palla prendeva la gamba che è la cosa principale per un giocatore del Genoa secondo me nel senso che non mi salti ecco quindi Motta nel Genoa per me è più importante di Milito nonostante ami tantissimo anche Milito però per altri motivi vivamente grandissimo giocatore di diverse caratteristiche Zola perché la mia famiglia è mezza sarda i miei genitori sono tutte e due nati in Sardegna quindi la storia di Zola la conosco da quando sono piccolissimo proprio perché era di un paesino vicino a dove è nato mio papà è di Oliena mio papà è di Mamoyada e e poi vabbè perché in campo Zola era poesia è stato il primo forse anche qua in Premier League quando era al Chelsea a far vedere qualcosa che non era un calcio rugby un calcio fisico ma un dribbling una giocata di fantasia un un passaggio insomma smarcante quello in campo e poi mai una parola fuori posto sempre un atteggiamento molto serio molto pulito una bella figura insomma del calcio io ero impazzito mi ricordo per lui proprio maglietta avevo la maglietta del Cagliari di Zola voglio dire perché era una cosa pazzesca ma avendo i genitori sardi c'è una logica ecco quasi a pari merito con Baggio quasi Zola un po' sopra per un legame affettivo Baggio in campo era anche lui di un altro pianeta proprio siamo pronti a parlare dell'attualità del Genua io ci provo dai dai parti tu sei l'ospite allora ne veniamo da un buon risultato a Roma indubbiamente soprattutto dal punto di vista del gioco la giornata di oggi non ci ha regalato grandi soddisfazioni però tu ti definisci un genuano entusiasta un entusiasta deve essere secondo me anche un po' ottimista quindi come la vedi? ma la vedo che ci sono diversi spunti da cui prendere appunto da cui iniziare la conversazione se parliamo di salvezza noi ci siamo già salvati a novembre quando gli americani sono arrivati i 7-7 partner sono arrivati ci hanno preso ci siamo salvati lì perché andavamo in B e fallivamo e invece grazie a loro andremo forse in B ma sicuramente ci sarà comunque poi un progetto per tornare in A e comunque come hanno non dico promesso perché non l'hanno promesso ma come hanno detto loro c'è un piano per tornare in Europa nei prossimi 5 anni 5-6 anni quindi preoccupazione per andare in Serie B dal punto di vista dell'esistenza del Genoa non ne ho dal punto di vista sportivo invece c'è da farsi un po' di domande perché è ereditata una situazione imbarazzante per quello che riguarda la società rosa inclusa da Preziosi è stato fatto secondo me un grosso errore di ingenuità e da parte mia già perdonato però comunque un errore pesante che è stato quello di prendere Shevchenko senza avere un direttore sportivo senza verificare poi neanche le capacità di Shevchenko perché nonostante abbia fatto molto bene con l'Ucraina nonostante sia un signore del calcio nonostante sia comunque un pallone d'oro a Genova veramente veramente fatto male non soltanto dal punto di vista tecnico ma proprio anche dal punto di vista motivazionale di personalità adesso io vabbè siamo tutti ovviamente entusiasti di Blessin e io sono strafelice Blessin è arrivato e in 24 ore ha umiliato il lavoro di Tassotti e Shevchenko facendo le cose semplici facendo semplificando quello che è il modo di stare in campo semplificando quello che è la relazione con magari un giocatore e viceversa e ha tirato fuori da parte dei giocatori forse delle energie che neanche loro pensavano di avere ecco io io penso che il Genoa sarà in lotta fino alla fine me lo auguro ma sono anche abbastanza convinto e dovremo avere della fortuna io penso che ci sarà veramente bisogno di più fortuna rispetto a quello che abbiamo avuto adesso per poter restare in Serie A perché nonostante noi riuscissimo a fare anche i punti che ci servono se le altre continuano a vincere non c'è niente da fare chi vuol dire qualcosa brava e tu perché io ho parlato tantissimo no beh io sono d'accordo con Tavia per quanto riguarda il lavoro che almeno su per quanto abbiamo visto che sta facendo Blessing ha praticamente messo in campo come si deve giocare correndo col talo tre denti in 90 minuti che sei in 11 che sei in 10 si continua si va si continua fino alla fine e questo è quello che serve soprattutto per una squadra con obiettivi che fin dall'inizio stagione qual era la salvezza ma anche soprattutto per la posizione di classifica ora si l'errore dell'allenatore ne abbiamo già straparlato ma purtroppo è una cosa che per esperienza purtroppo in esperienza hanno purtroppo fatto e si va avanti si va avanti però abbiamo una grande garanzia dietro abbiamo un gruppo che comunque sulla carta vuole fare bene per il Genoa e a Genova in generale quindi sicuramente si resta positivi la partita di ieri ha dimostrato nonostante mancasse di nuovo il famoso tiro in porta il gol che ci manca da tanto tempo per esultare un po' è il discorso più di vedere un po' la grinta in campo e secondo me con tanti nuovi che ovviamente non sono ancora integrati al 100% nella squadra eccetera ci sono delle immagini di miglioramento belli grandi quindi adesso la prossima a Salerno è dove veramente bisogna da lì in poi cominciare a portare a casa tutti i punti possibili immaginabili dobbiamo cominciare a fare dei filotti i filotti che come dicevi anche tu Tobia insomma le altre squadre hanno avuto tanta fortuna anche quelle che sono poco sopra di noi nel portare a casa la posizione attuale dove sono quindi che comincia a girare anche per noi insomma nel dubbio portare anche a casa anche dei tu vedi ieri i primi 30 minuti con la Roma loro erano veramente in bambola non riuscivano a fare niente e qualche occasione è stata creata anche molto bene lì è la linea sottile tra avere culo e non avere culo nel senso che un rimpallo il colpo di testa di Eboa un rimpallo su quel calcio da fuori mi sembra di destra o di chi aveva calciato insomma da poco fuori area queste cose a noi non capitano mai forse perché la fortuna aiuta gli audaci e noi quest'anno siamo stati poco audaci però è anche vero che è una cosa incredibile non ci sono veramente aggettivi per spiegare un po' l'andazzo ecco dobbiamo aggiornare le nostre percentuali di salvezza? no secondo me no è difficile era difficile prima è difficile adesso io oggi ero veramente sotto un treno quando ho visto non tanto quelli là ma il Cagliari mi ha veramente ucciso però poi pensandoci anche confrontandomi con qualcuno di un po' più equilibrato cioè noi dobbiamo fare i nostri punti dobbiamo guardare a noi e poi vediamo alla fine i conti si fanno alla fine sarebbe da non guardare capito? sì in teoria diciamo che sebbene il risultato del Cagliari sia stato abbastanza inaspettato e quindi poco gradito se la vogliamo guardare dal lato positivo se ce n'è uno è quello che chiaramente queste squadre come da un certo punto di vista a parte la prossima contro di noi ma mi auguro anche la serenità una faccia tornino un po' in gioco il che significa che andranno a dare fastidio anche ad altre squadre e quindi la possibilità che queste possano togliere dei punti anche a quelle davanti il problema in questo momento che io vedo è che buono risultato di Venezia però Venezia è terzo ultimo quindi se anche raggiungiamo il Venezia non abbiamo ottenuto niente bisogna tirarne giù un'altra e in questo momento io resto sempre dell'idea che di quelle che sono davanti quella che può fare veramente un filotto negativo è lo Spezia perché comunque ha fatto risultati ben oltre i suoi meriti e ben oltre i suoi valori e quindi ci si potrebbe aspettare che con un paio di sconfitte consecutive crolli un po' il castello di carte di carte e si ritrovino però è anche vero che insomma hanno un bel un bel mario come avete detto voi noi dobbiamo fare il nostro e e poi vedere non c'è non c'è molto altro da fare Matteo vuoi dire qualcosa o ti chiudi in un silenzio ma nel senso il progetto dignità quello che adesso lo chiamo io sta andando avanti perché dopo Firenze ma non dopo Firenze dopo diciotta anni con quel col coso lì non nominiamolo neanche di dignità ce ne è stata poco come ci siamo salvati negli ultimi due tre cinque anni di dignità c'è stato ben poco si sta andando avanti ci sono state questa settimana una cosa da rimarcare le parole di Wander che appunto ha fatto capire la secondo me anche tirata preziosi quando ha detto vogliamo pagare i fornitori nei tempi giusti le tasse quelle cose lì quindi vergogne dove accumuli 200 milioni di debiti di tasse non pagate e devi continuare a fare plus valenze per pagare gli interessi non le tasse che non hai pagato ma gli interessi speriamo che non ci non succeda più quindi avanti col progetto dignità guardiamo solamente le partite del Genua perché se facciamo come ho fatto io oggi ci facciamo solamente del gran nervoso e poi nel senso ora ci saranno quattro partite cinque quanti sono bisogna vincere almeno tre perché poi puoi anche sperare che le altre perdano tutto ma non è che gli tolgano dei punti quindi ora noi abbiamo Empoli Salernitano e Venezia senza fare i conti però ragazzi bisogna vincerle che non gli tolgano dei punti vediamo però che non gli tolgano dei punti vediamo vabbè però io ho certe speranze bisogna capire anche tipo Salernitano Udinese se confermano il 3 a 0 o se la partita verrà giocata ecco ci sono un paio di partite che mi pare siano subgiudice chiamiamole così è pazzesco veramente scusate il latino pazzesco non lo so bisogna bisogna fare dei punti noi noi adesso bisogna abbiamo quattro partite dove tre sono abbordabili due in casa una fuori poi c'è il jolly con l'Inter con l'Inter io spero di non vedere le patetiche partite che abbiamo fatto negli ultimi anni non credo ecco andiamo avanti guardiamo noi lasciamo perdere gli altri perché ci facciamo solamente del gran nervoso e comunque mi sento di aggiungere che sono d'accordissimo con te nel momento in cui si dovesse andare in Serie B e vabbè andremo in Serie B e torneremo su nel presto possibile e si ripartirà con una cosa completamente nuova e secondo me nonostante magari possa essere scocciante perdere un anno speriamo solo uno per poter risalire questi hanno in mente un obiettivo ben preciso e hanno hanno dato prova di insomma volerlo perseguire di avere anche le disponibilità economiche e anche le capacità per poterlo fare quindi insomma dobbiamo pazientare come tifosi sarà più bello poi quando quando saremo là in cima ecco comunque per tornare un attimo al calcio di Edimburgo volevo farvi notare che nel 2014 tutte e due le squadre retrocedettero nella seconda divisione quindi se deve essere portiamoceli dietro cerchiamo di portarceli dietro almeno a parte quello tutti ci auguriamo ovviamente che almeno per noi questo non succeda è impossibile è impossibile la UC Lazaro abbiamo visto oggi conti e sensi ragazzi sì 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 è vero c'è c'è qualcosa di il derby il derby di di Glasgow è un derby religioso da noi è terrestri contro estaterrestri c'è qualcosa che proprio non non torna c'è qualcosa di alieno in quello che devo dire io l'ho vista anche un pochino distrattamente io i primi sette minuti poi mi sono rotto sono partiti benissimo hanno preso la sorpresa una squadra che che senso alza suolo io non lo so che senso alza suolo proprio come esistenza questi sono entrati in campo ancora probabilmente con la sosta nazionale in testa va a capire ne hanno prese due poi da lì è difficile da lì è difficile io spero davvero che noi si possa riuscire ad arrivare in corsa ancora vivi ancora caldi al derby giocare il derby con dignità qualunque possa essere insomma l'outcome non lo voglio neanche dire poi dopo dopo quello può succedere qualunque cosa non mi interessa più voglio arrivare a quella partita lì ancora vivo ancora con delle chance voglio andare a dargli fastidio poi se si va in B pazienza però ecco diciamo che di Boselli ce n'è solo uno questo deve essere chiaro bene ragazzi siamo in chiusura ringrazio ringrazio Tobia che è stato un ospite meraviglioso ci ha portato a respirare un po' di atmosfera del vecchio continente e del calcio scozzese tanto amato dal nostro Matteo settimana prossima torniamo negli Stati Uniti con un amico del Genoa Club New York Caspar che peraltro avete potuto vedere anche sulla nostra pagina Facebook ieri era alle 8 e mezza già in giro per New York per andare a vedere la partita da qualche parte e quindi ancora grazie Tobia e ci risentiamo la prossima settimana fate voi un giro di saluti e arrivederci grazie mille Tobia grazie Tobia per aver partecipato a un spettacolare episodio anche oggi grazie ancora e forza Genoa grazie grazie Tobia e direi che se non ti scoccia tu hai detto che hai un negozio di vini se ci dai l'indirizzo secondo me anche pubblicarlo che qualche genuano ti venga a trovare non è il mio negozio è una catena però sì il negozio si chiama Oddbins che è una catena insomma nazionale di vini nel quartiere di Brunsfield a Edimburgo è l'unico negozio di vini insomma della zona quindi se capitate qua in Scozia ma cercatemi anche scrivetemi non c'è nessun problema io per un fratello genuano in visita in Scozia insomma mi prodigo ecco e faccio da cicerone senza problema perfetto grazie grazie ancora Tobia grazie a voi davvero tanto bellissima iniziativa la vostra complimenti è una cosa molto molto bella e continuate così perché insomma vedo anche che vi vi apprezzano un po' un po' ovunque quindi state lavorando bene ecco avete ascoltato genuani si resta grazie per l'ascolto e arrivederci alla prossima settimana grazie a tutti grazie a tutti